Grazie, funziona. Allora, saremo molto brevi, molto brevi, abbiamo fatto un cambio di programma in corso perché l'ora è tarda, insomma, giustamente ci sono stati dei ritardi, ma è normale che sia così. Allora io farei una discussione adesso, parliamo di talenti digitali o meglio, come non ammazzarli dentro un'azienda, che io ho sentito durante la mattinata di cultura dell'errore, di capacità di coinvolgimento dell'esterno, di valorizzazione dell'80%, non giudicato in genere talentuoso per portarla a risultati migliori, sinceramente devo essere veramente schietto in questo, non conosco un'azienda in Italia che davvero poi le mette in pratica queste cose, perché ovviamente è molto complicato, però ci perdiamo un capitale umano e soprattutto in Italia stiamo sistematicamente ammazzando tutti i talenti che abbiamo. Inizierei allora con un giro intanto di pareri su questo, da Maximo, assolutamente che poi venendo in realtà, essendo mezzo italiano, mezzo colombiano, ha comunque già di per sé una cultura che è su due mondi e quindi di fatto culturalmente puoi avere una visione anche molto più esterna rispetto al sistema Italia. Prego. Grazie. 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 Grazie.